Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui inizieremo a parlare di JavaScript, il linguaggio che viene utilizzato nel web per rendere le pagine dinamiche e quindi permettere un'interazione molto più agevole con gli utenti. Cos'è JavaScript? JavaScript è un linguaggio di programmazione che è stato inventato nel 1995 in Nescape, che era sostanzialmente quella che al momento era la principale azienda del web, quindi la creatrice del primo browser di grossa diffusione. Il linguaggio è stato standardizzato dal ECMA nel 1997 e successivamente è stato adottato anche come standard all'ISO con lo standard 16262. È nato inizialmente per essere utilizzato all'interno dei browser, ma negli ultimi anni JavaScript è stato utilizzato anche sul lato server, ad esempio utilizzando la piattaforma Node, che permette di andare a scrivere dei programmi che girano sul lato server e quindi interagiscono dal lato opposto rispetto al browser. Quali sono le principali caratteristiche di JavaScript? Sostanzialmente è un linguaggio strutturato, un po' come tutti i linguaggi che avete imparato durante i vostri studi. Una caratteristica importante è che è un linguaggio dai tipi dinamici. Questo vuol dire che normalmente non è necessario andare a dichiarare che tipo assumerà una variabile, quindi mentre in C io dichiaro int i, quindi dico che i è una variabile di tipo intero, in JavaScript semplicemente devo andare a dichiarare che i è una variabile. Il valore che metterò dentro quella variabile determina poi il suo tipo. Ovviamente il valore può anche cambiare nel tempo, quindi i inizialmente può assumere un valore intero e successivamente può assumere un valore di stringa, ad esempio. La valutazione e la compilazione avvengono a runtime, ovvero non c'è una fase di compilazione che crea un codice oggetto che poi verrà eseguito al momento in cui viene lanciato il programma, ma il programma viene compilato e analizzato nel momento dell'esecuzione. Si tratta di un linguaggio basato sugli oggetti che quindi fornisce un supporto per andare a creare gli oggetti. Non ha un supporto completo orientato agli oggetti come i linguaggi più moderni, quali ad esempio Java o C++ o C Sharp, ma ha un supporto molto molto base. E fino alla versione 6 non aveva neanche il supporto per andare a definire quelle che sono le classi, che sono un elemento fondamentale dell'approccio orientato agli oggetti. Un po' di storia. Quindi la prima versione del 97, abbiamo detto, nel 99 la versione 3, che ha avuto una serie di miglioramenti significativi, in particolare la gestione delle espressioni regolari, delle stringhe e la gestione delle eccezioni tramite try-catch. Nel frattempo ci sono succedute una serie di versioni intermedie, in particolare la 4, che non menzioniamo qua, fino ad arrivare nel 2009 alla versione 5, che è quella che ha permesso di risolvere una serie di ambiguità del linguaggio, renderlo un po' più adatto a una programmazione ampia e diffusa. Nel 2011 è stata sviluppata la versione 5.1, che è sostanzialmente quella che ha permesso di andare ad allineare lo standard ufficiale del linguaggio con quello che è finito dentro lo standard ISO. Ed è una versione molto supportata, quindi quello che è descritto in questa versione 5.1 di JavaScript sostanzialmente è accessibile in praticamente tutti i browser, sia quelli desktop che quelli mobili. Nel 2015 è stata sviluppata la versione 6, chiamata anche HMR Script 2015, che al momento è molto diffusa anche se in alcuni browser, magari un po' più vecchi, non è completamente supportata. Ci sono alcune caratteristiche importanti, quali ad esempio gli operatori per chiudere e distribuire delle variabili a partire da una stringa, le arrow function e le classi che ho menzionato prima. Più recentemente abbiamo avuto praticamente una versione all'anno, nel 2016, 17, 18 e 19, che hanno aggiunto una serie di caratteristiche. Diciamo che la versione S7 ha fatto una serie di piccole modifiche, qualche minore modifica sintastica, ad esempio è stato introdotto l'operatore doppio asterisco per l'elevazione a potenza. Nelle versioni più recenti ci si è concentrati soprattutto per andare a supportare quelle che sono le operazioni concorrenti, ovvero per permettere a più flussi di esecuzione di essere, per l'appunto, eseguiti contemporaneamente. Questo è utile soprattutto sul lato server e quando voglio avere una interazione molto complessa sul lato client, quindi all'interno del browser. Quindi sono sostanzialmente delle caratteristiche aggiuntive che permettono di andare a scrivere dei programmi che siano più performanti e tutto sommato un po' più semplici da comprendere, però non vanno ad aggiungere particolari caratteristiche che vengono utilizzate nella programmazione di base, diciamo di tutti i giorni. JavaScript è stato pensato per essere integrato con HTML, il modo principale con cui posso andare a integrarlo è tramite il tag che si chiama script, al cui interno io posso andare a scrivere del linguaggio, del codice JavaScript che verrà eseguito nel momento in cui il browser, analizzando la pagina HTML, arriverà a quel punto. Quindi all'interno scrivo del codice che potrà essere eseguito. Se il codice non lo voglio mettere direttamente all'interno della pagina HTML, posso ovviamente creare un file separato e mettere all'interno del tag JavaScript un attributo src che punta al file che verrà sostanzialmente letto nel momento in cui il browser analizzerà questo elemento all'interno della pagina. Attenzione che non è possibile fare un misto delle due cose, per cui se mettete l'attributo src non potete scrivere all'interno del tag script slash script del codice, perché altrimenti quello viene ignorato. Oltre al tag JavaScript, che è il modo principale per andare a integrare HTML e codice JavaScript, è possibile andare a mettere alcuni attributi uguali a frammenti di codice JavaScript. ad esempio, all'interno del tag body c'è un attributo onload il cui valore potrebbe essere uguale a un frammento di codice JavaScript, che verrà eseguito nel momento in cui tutta la pagina complessivamente è stata caricata. Un'ulteriore modalità è quella di utilizzare quelli che si chiamano degli scriptlet, ovvero quando voi andate a memorizzare un bookmark all'interno del vostro browser preferito, invece di mettere un URL della forma HTTP, due punti, eccetera, eccetera, potete scrivere JavaScript, due punti, e poi del codice JavaScript che può essere eseguito nel momento in cui andate a selezionare quel bookmark. Questo codice può andare quindi ad operare sulla pagina in cui vi trovate, per cui potete scrivere del codice JavaScript che, ad esempio, rimuove i banner pubblicitari che stanno su una pagina. Il modo principale comunque è di andare a integrare HTML con JavaScript è tramite il tag script. Quali ambienti possiamo utilizzare per andare a scrivere del codice JavaScript e per eseguirlo? Allora, innanzitutto c'è la possibilità di utilizzare un ambiente REPL. REPL sta per Read, Evaluate, Print, Loop, ovvero sono gli ambienti in cui io posso andare a scrivere del codice che verrà letto, valutato, verrà stampato il risultato e poi c'è un loop che ci fa ripartire da capo. Quindi è l'ambiente interattivo, ad esempio, quando voi aprite la shell di comandi su un desktop, quello è un ambiente di tipo REPL in cui legge il comando che io do, lo valuta, stampa il risultato e poi torna a rileggere il prossimo comando. La possibilità di utilizzare un ambiente di questo tipo c'è sia nei browser, in cui io posso andare a utilizzare la console. La console si può aprire all'interno di un browser utilizzando CTRL-SHIFT-I o CMD-ALT-I a seconda del sistema operativo che utilizzate o varianti di questa combinazione. Oppure esiste anche la console della piattaforma Node.js in cui io posso lanciare il comando Node e questo mi apre una console in cui posso andare a scrivere comandi e ottenere le risposte. Ho la possibilità di utilizzare degli editor online, quindi ci sono delle pagine online in cui all'interno dello schermo io posso andare a identificare una zona in cui scrivere del codice e un'altra zona in cui vedo i risultati. Oppure posso utilizzare degli editor che sono sostanzialmente offline. In pratica JavaScript è codice, testo, HTML e CSS pure, quindi io posso utilizzare un editor di testo molto semplice oppure un ambiente integrato, ad esempio WebStorm che abbiamo già menzionato all'interno di questo corso. Devo avere un server web a cui far servire queste pagine e un browser che si collega al server web al cui interno io ho memorizzato i contenuti che ho scritto. Quali sono i concetti fondamentali alla base di JavaScript? Allora, JavaScript è abbastanza simile come sintassi di base a C o a tanti linguaggi moderni. Cerchiamo di andare a vedere quali sono le caratteristiche peculiari. Allora, in JavaScript esistono tre tipi principali di dati, i numeri, i valori booleani e le stringhe. I numeri racchiudono sia i valori numerici interi che i valori numerici floating point e su questi posso fare tutte le solite operazioni, somme, addizioni, eccetera, ho a disposizione anche le funzioni trigonometriche e tantissime altre funzioni. Normalmente all'interno di JavaScript questi sono memorizzati sotto forma di numeri floating point a 64 bit. Abbiamo poi i valori booleani che sono variabili che possono assumere due valori soltanto vero e falso e a cui posso applicare i nostri soliti operatori logici AND, OR e NOT. E poi ho le stringhe. Le stringhe in JavaScript possono essere definite con delle costanti racchiuse tra doppi o singoli apici. Mentre in C i doppi apici sono riservati per le stringhe e i singoli apici per i caratteri, in JavaScript singoli e doppi apici sono sostanzialmente interscambiabili. L'importante è che quando io inizio una stringa con un doppio apice, poi la termini con un doppio apice e viceversa se la inizio con un singolo apice la devo terminare con un singolo apice. All'interno delle stringhe posso utilizzare, se voglio utilizzare dei caratteri particolari, il quote character che è il backslash, per cui ad esempio la capo come al solito avrà backslash N. In JavaScript posso andare a concatenare delle stringhe tra loro utilizzando l'operatore più, quindi stringa 1 più stringa 2 mi dà la concatenazione delle due stringhe. ovviamente questi valori numerici possono stare all'interno di variabili e le variabili possono essere dichiarate sostanzialmente in tre modi. Utilizzando la parola chiave var, che è quella più diffusa e che mi dà come visibilità della variabile un contesto, quindi la funzione in cui ho definito la variabile, posso utilizzare let che è stata introdotta più recentemente all'interno dello standard JavaScript e che definisce variabili che hanno una visibilità un po' più ristretta, quelle di un blocco. E poi ho la possibilità di andare a definire quelle che sono delle costanti, quindi nomi a cui associo un valore e quel valore non può essere modificato. In ogni istante io posso andare a utilizzare l'operatore barra funzione typeof che mi permette di andare a capire qual è il tipo del valore memorizzato all'interno di una variabile. Ricordatevi che non c'è un tipo di una variabile, ma la variabile assume il tipo del valore che è memorizzato al suo interno in un determinato momento. In particolare, inoltre, JavaScript definisce tre valori particolari che non hanno nessun tipo che sono undefined, vuol dire che io ho dichiarato una variabile ma non ho dato nessun valore. Per cui var tree che io ho dichiarato quassù oppure let i sostanzialmente assegnano implicitamente alle variabili tree e i, il valore undefined. Questo sostanzialmente ha impatti poi nel momento in cui io vado a utilizzare le variabili perché quando cerco di fare qualche operazione con delle variabili che hanno un valore undefined, ovviamente avrò un impatto su quello che è il risultato. Ho la possibilità di andare a definire null, che vuol dire che la variabile, che a questo punto funziona come puntatore non punta ad alcun oggetto e per molte operazioni ho come risultato n a n, che sta per not a number, che è un valore speciale che mi dice che il risultato di un'operazione aritmetica o di altro tipo mi ha dato un valore che non è un numero. Attenzione che not a number viene generato anche se cerco di fare una somma con un valore che è non definito. Il risultato a quel punto è un valore, non un numero. Attenzione a distinguere bene i due concetti di variabili non definite o unresolved. Una variabile dichiarata a cui ho non assegnato un valore sostanzialmente è undefined, quindi è come se io avessi scritto var x uguale undefined. Undefined è una parola vera e propria del linguaggio javascript che io posso utilizzare normalmente. Normalmente non ha molta utilità andare a dire che inizializzo una variabile undefined perché questa inizializzazione è implicita, però posso utilizzare undefined ad esempio per fare un confronto. Diverso è il caso in cui io vada a utilizzare una variabile che invece non è mai stata dichiarata. Per cui se cerco di fare x uguale undeclared var più 1, ecco in questo caso è una variabile mai dichiarata, che di solito viene detta unresolved. Questo normalmente è da origine ad un errore. Quindi io mentre posso utilizzare con risultati magari particolari delle variabili che siano undefined, non posso utilizzare le variabili che non siano state dichiarate in precedenza. Visto che abbiamo soltanto tre tipi all'interno di javascript, per facilitare il passaggio da uno all'altro è possibile, anzi javascript normalmente lo fa in automatico, fare delle conversioni automatiche. Per cui normalmente ogni volta che io cerco di fare un'operazione su una variabile, se ho valori di tipo diverso, quindi ad esempio cerco di combinare una stringa con un valore intero, ecco automaticamente ho una conversione. Per cui nel nostro primo esempio in alto abbiamo la variabile s a cui è stato assegnato il valore 10 e successivamente s più 1. Qual è il risultato di s più 1? Allora s è una stringa, 1 è un intero, il risultato sarà la concatenazione tra la stringa 1, 0 e la conversione in stringa dell'intero 1. Quindi il risultato è una stringa che contiene 1, 0 e 1. Se invece io volessi fare la somma tra la conversione intero della stringa memorizzata in s e 1, devo utilizzare qualche operazione che mi forzi una conversione. Per cui mettere più davanti a una variabile automaticamente, che è un'operazione che dà un segno, normalmente forza la conversione di quella variabile, che è una stringa, in un numero. E quindi a quel punto se sommo un numero con un numero ottengo ovviamente un altro numero. In questo caso quindi ottengo finalmente 11. Se faccio un prodotto tra una stringa e un numero, ovviamente il prodotto, visto che mentre l'operatore più tra le stringhe ha un significato chiaro e della concatenazione, l'operatore asterisco tra le stringhe non ha nessun significato, quindi automaticamente la stringa verrà convertita in un numero e poi moltiplicata per 2. A questo punto s per 2 mi darà 20, ho un numero, il numero più una stringa che cosa mi dà? Mi dà una concatenazione. Quindi avrò sostanzialmente la concatenazione tra 20, che è risultato di 10 convertito in numero per 2 e 1, 0. Ovviamente io posso applicare anche altri operatori, ad esempio posso applicare un operatore logico come l'operatore NOT, in questo caso cosa succede? Che viene presa la stringa, viene convertita in un valore booleano, viene applicata la negazione. Normalmente tutte le stringhe, tranne quelle vuote, automaticamente vengono interpretate come valori veri. E ovviamente posso fare anche cose un po' più complicate, per cui ad esempio nell'ultima espressione in pratica ho più S, quindi automaticamente forzo la conversione della stringa 1, 0 nell'intero 10. A questo punto sommo a che cosa? A NOT S, che abbiamo visto NOT S è falso, se applico un altro NOT diventa vero, quindi sommo sostanzialmente il valore numerico 10 a TRUE. E il risultato? 11. Perché? Perché la somma tra valori booleani non ha senso, la somma ha senso tra un numero e un altro valore numerico, quindi il valore TRUE automaticamente viene convertito in un numero e la conversione di TRUE in un numero ci dà 1. Quindi 1, 0 viene convertito in un numero 10. A questo viene, si cerca di sommare un valore booleano. Il valore booleano viene convertito in un intero, il valore TRUE viene convertito in uno e quindi il risultato è 11. Se da un lato le conversioni automatiche sono molto molto comode, perché non ci portano a scrivere molto codice per andare a fare delle conversioni che spesso possono essere fatte in maniera automatica e intuitiva dal compilatore, dobbiamo stare molto attenti perché a volte ci aspettiamo che una variabile abbia un valore intero, mentre invece un valore stringa e quindi quando la sommo il risultato è che invece di fare una somma tra numeri ho una concatenazione. Quindi è bene tutte le volte che io ho la necessità di fare operazioni numeriche di forzare una conversione. Ad esempio posso mettere un più davanti per garantire che quella stringa venga interpretata effettivamente come un valore numerico. Oltre quindi alle variabili e ai tre tipi fondamentali ci sono tutte le istituzioni di controllo. Le istituzioni di controllo sono esattamente le stesse di tutti i linguaggi di programmazione moderni. Quindi abbiamo IF, abbiamo i cicli FOR e WHILE con le due parole chiave BREAK e CONTINUE che permettono di interrompere e saltare l'iterazione successiva e SWITCH che mi permette di andare a fare la selezione di più casi. La sintassi di questi costrutti di controllo è sostanzialmente analoga a quella che troviamo ad esempio in C o anche in Java o in tanti altri linguaggi moderni. Le condizioni che vengono utilizzate all'interno dei costrutti di controllo ovviamente sono valori booleani. Sui valori booleani, come dicevamo prima, possiamo andare ad applicare tranquillamente gli operatori NOT, END e OR e per produrre dei valori booleani possiamo usare i classici operatori di confronto uguale, diverso, minore, maggiore, minore, uguale, maggiore, uguale. Attenzione che tutte le volte che io all'interno di un costrutto di controllo utilizzo un'espressione che non è booleana automaticamente questa viene convertita in un valore booleano. La regola è che le stringhe vuote, lo zero, il valore undefined, null o not and number, i valori speciali automaticamente vengono convertiti in falso. Tutto il resto automaticamente diventa true. Ecco alcuni esempi di conversioni che possiamo applicare e vengono applicate automaticamente quando facciamo dei confronti. Per cui, quando confrontiamo la stringa 1, 0 con il valore intero 10, il secondo viene convertito in una stringa e quindi sono uguali. Un po' più particolare è il confronto tra la stringa vuota e 0 perché entrambi vengono convertiti in un valore booleano e quindi entrambi risultano falsi. 5 più 5 ovviamente è uguale a 10, su questo non ci piove, però se facciamo la stringa 1 più il valore 0, il risultato è la concatenazione della stringa 1 più la conversione di stringa del carattere 0. 5 più 5, quando sono due stringhe, otteniamo 55. La concatenazione dei due 5 e poi la conversione del 55 nella stringa con i due 5 e quindi sono uguali. Ovviamente nel momento in cui ho una stringa e un valore numerico, il valore numerico viene convertito in stringa perché è quello che molto spesso mi comporta la minore perdita di dettaglio e di informazione. Invece ovviamente nel momento in cui forzo la conversione, ed è l'ultimo caso che vediamo qui in fondo, se faccio 5 più 5 e col più 5 forza la conversione della stringa in un valore numerico, a quel punto faccio una somma tra valori numerici. Per cui attenzione alle conversioni, perché in questo caso 233 possono essere confrontati in tanti modi. La stringa 200 è maggiore di 33, ma la stringa 200 è minore della stringa 33. Per cui se faccio un confronto tra una stringa e un valore numerico, ecco in questo caso invece di convertire il valore numerico in stringa faccio il contrario. Per cui JavaScript prende 200, me lo converte in valore numerico perché effettivamente quello è un valore numerico e quindi 200 effettivamente come numero è maggiore di 33. Nel momento in cui però ho il confronto tra due stringhe, a quel punto faccio un confronto lessicografico e ovviamente il 2 come carattere viene prima del 3 e quindi 200 è più piccolo di 33. Se io voglio evitare qualunque tipo di conversione, soprattutto per i confronti uguale e diverso, posso utilizzare la versione con tre uguali, quindi uguale 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 sostanzialmente mi permette di fare un confronto tra due valori senza alcuna conversione. Quindi se i due valori sono di tipo diverso ovviamente saranno diversi e verranno confrontati senza conversione. Per cui se ho queste due stringhe l'uguale uguale mi dà vero ma il triplo uguale mi dà falso perché sono valori diversi e quindi in quanto tali non sono confrontabili e quindi il confronto ci dà diverso. Operatori logici. Anche qui abbiamo delle particolarità significative che poi vengono utilizzate nel codice per andare a scrivere delle espressioni molto più compatte. L'uguale uguale come funziona? Scusate l'uguale. Il lore come funziona? Funziona prendendo la parte sinistra, lhs sta per left hand side, quindi ciò che sta a sinistra viene convertito in un valore booleano. Se quel valore è vero automaticamente viene restituito il lato sinistro, però non convertito, quindi non viene restituito true o false ma viene restituito il valore effettivo, che poteva essere un valore numerico, una stringa o qualunque altra cosa. Se invece la parte sinistra è falsa viene restituito la parte destra, di nuovo non convertita. Per l'end l'operazione è analoga e ovviamente se la parte sinistra dopo la conversione in booleano è falsa, allora viene restituita la parte sinistra, di nuovo non convertita, altrimenti viene restituita la parte destra, di nuovo non convertita. Per cui in pratica se io faccio un OR tra due stringhe, che entrambe contengono un valore, quindi implicitamente quando sono convertito in valore booleano danno true, il risultato che ottengo è A OR B, A convertito in valore booleano è vero e quindi viene restituito A. Se io invece faccio stringa vuota OR B, il risultato qual è? B, perché la stringa vuota, l'abbiamo visto prima, viene convertita automaticamente nel valore booleano falso e quindi viene restituto la parte destra. Se io faccio undefined OR B, anche in questo caso mi restituto B. Per cui questo meccanismo dell'OR è un meccanismo che mi permette ad esempio di andare a prendere una variabile che potrebbe anche essere non definita e dargli un valore di default. Quindi se io prendo variabile OR il valore di default, complessivamente quell'espressione è il valore della variabile, se non è definita, se è definita scusate, oppure il valore di default se invece la variabile è undefined. Sotto vedete il codice che sostanzialmente è equivalente all'operazione di OR. Stessa cosa dicasi per l'AND, per cui A AND B che cosa mi dà? Mi dà come parte destra. Stringa vuota AND B mi dà che cosa la stringa vuota? Perché essendo falsa non viene valutata la seconda parte e viene restituito direttamente la prima. Per quanto riguarda undefined OR B, ovviamente ho come risultato undefined che qui non viene mostrato. Tutti i nostri valori fondamentali, quindi le stringhe, i valori numerici e i valori booleani, di fatto sono degli oggetti, ovvero non sono semplici sequenze di bit, ma sono delle strutture un po' più complicate su cui è possibile andare a chiamare dei metodi. Che cosa sono i metodi? Sono delle operazioni che io posso andare a eseguire su questi oggetti. Quali sono i metodi più comuni che posso utilizzare? Lo vediamo tra un attimo. Ricordiamo prima di tutto come viene invocato un metodo. Un metodo è analogo a una funzione per cui metodo aperta tonda parametri, più di uno o eventualmente nessuno se è un metodo senza parametri, solo che invece di essere chiamato come una funzione viene chiamato su un oggetto che sarà un valore che potrebbe essere una stringa, potrebbe essere un valore numerico. Quindi oggetto.metodo cosa vuol dire? Chiamo quel metodo sul particolare oggetto. Per quanto riguarda i valori di tipo numerici, io ho questi metodi. Ad esempio ho toString che, dato un valore di tipo numerico, mi produce il valore stringa. Ovviamente è un metodo senza parametri, ma volendo io posso passare un parametro che è la base, per cui se passo toString a 2 viene sostanzialmente restituita la codifica binaria di quel numero. ToFixed mi converte il numero in una notazione fissa, quindi senza esponente. ToExponential mi utilizza la notazione esponenziale. Ovviamente posso passare a questi due metodi il numero di cifre decimali che mi interessa rappresentare. Oppure un ToPrecision che mi permette di andare a specificare quante cifre di precisione voglio e poi verrà utilizzata la notazione fissa o esponenziale a seconda del valore specifico del valore numerico. Ad esempio, se io ho la variabile pi che inizializzo a 3,14 e chiamo pi.string ottengo 3,1415. Attenzione che io posso anche andare a utilizzare direttamente il ToString sul valore 3,14, perché 3,14 viene interpretato sostanzialmente come un oggetto. Quando ho un intero, come in questo secondo caso, devo racchiuderlo tra parentesi tonde perché altrimenti c'è l'ambiguità. Il punto successivo, se non metto le parentesi tonde, potrebbe essere interpretato come il punto decimale e quindi a quel punto JavaScript si aspetterebbe un valore numerico oppure il punto di chiamata di un metodo. Questa ambiguità non è risolta nel linguaggio JavaScript per cui io devo per forza mettere le parentesi tonde in modo da garantire che il codice sia corretto. Posso andare a fare un ToFixed mettendo soltanto due cifre decimali, la versione esponenziale decimale, oppure la versione comprecisione di due cifre, quindi l'intera più la prima cifra decimale. Ci sono poi tutta una serie di metodi che sono quelli che vengono definiti sulle stringhe e qui ce ne sono tantissimi, quelli che vi ho ripetuto qua sono quelli principali. Il primo in realtà non è un metodo ma è quella che si chiama una proprietà, per cui non devo mettere le parentesi tonde, ma è semplicemente una proprietà delle stringhe ed è la lunghezza. Poi c'è un metodo che si chiama Charette che mi restituisce il carattere in una data posizione. Ricordiamoci che qui esattamente come in C gli indici partono da zero. Slice che mi estrae una sottostringa da una posizione A a una posizione B, dove la posizione B è esclusa. IndexOf che mi permette di andare a scoprire all'interno di una stringa principale dove si trova una sottostringa. EndSweed che mi verifica se la fine di una stringa è quella che ho passato come parametro. E poi Split che data una stringa sostanzialmente me la spezzetta in corrispondenza di un certo separatore che vado a specificare. Alcuni esempi di codice che vediamo qua. Allora, nel primo caso ho una variabile che contiene una stringa. Se vado a chiamare Length ottengo 22, che è la lunghezza di questa stringa, il numero di caratteri. Se vado a vedere Charette zero vado a prendere il primo carattere, la posizione zero. Se vado a prendere Slice 2,5 vado a prendere una sottostringa di quella data che parte dal carattere con indice 2, cioè il terzo, fino al carattere con indice 5, cioè il quarto escluso. Quindi sostanzialmente vado a prendere tre caratteri, 2, 3 e 4. Slice ha un parametro secondo che è opzionale, in realtà anche il primo, che sostanzialmente assume il valore di lunghezza della stringa, se non è definito. Per cui se metto 15 senza il secondo parametro, sostanzialmente mi prende dal carattere 15 in avanti fino alla fine del file. IndexOf mi restituisce la posizione di un carattere all'interno della stringa. Ovviamente il carattere può comparire più volte all'interno della stringa. IndexOf mi restituisce la prima posizione, partendo ovviamente dall'inizio, da sinistra. E poi EnsWeed mi dice se la mia stringa termina con una certa sottostringa data. Tra l'altro, piccola nota, vedete che qui ho utilizzato un misto di stringhe con singoli apici e stringhe quassù con i doppi apici. Oltre agli oggetti tipo stringa e numerico, ci sono altri oggetti a disposizione in JavaScript. Ad esempio, esiste un oggetto che si chiama Math, che ha sostanzialmente al suo interno tutta una serie di metodi che io posso utilizzare per fare varie operazioni matematiche. Quindi il minimo massimo, vari arrotondamenti, ho le funzioni di elevazione a potenza e di radice quadrata, esponenziali logaritmi, ho le funzioni trigonometriche, ho una funzione random che mi genera un valore numerico. E inoltre, dentro l'oggetto Math, ho anche due costanti, il numero di eulero e il numero pi greco. Oltre a numeri, booleani e stringhe, in realtà all'interno di JavaScript ho anche altri tipi di variabili. Ad esempio, le date. Le date possono essere create in questo modo, quindi facendo d uguale new date, aperta e chiusa tonda. Poi vedremo meglio che cosa significa questa scrittura. Per il momento diamo per scontato che questo sia il modo standard di andare a creare delle date. All'interno delle tonde posso andare a specificare dei parametri. Se non metto nessun parametro, la data è la data odierna. Oppure posso andare a specificare un unico parametro che, se è numerico, viene interpretato come il numero di millisecondi che sono trascorsi dal 1 gennaio 1970. Se invece una stringa viene interpretata come la descrizione di una data e quindi viene convertita, se è compatibile con alcuni standard. Oppure posso mettere una sequenza di parametri che sono normalmente anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi e millisecondi. Ovviamente non devo specificarli per forza tutti, ma ad esempio un sottoinsieme. Gli altri vengono messi normalmente a zero. Gli oggetti di tipo data, i valori di tipo data, hanno una serie di metodi che sono quelli che permettono di accedere alle varie componenti, ad esempio giorno, mese, anno, oppure ora, minuti, secondi. La conversione in stringa, per cui c'è to iso string, to date string o to time string, che mi strangono la parte di data, la parte di ora. Oppure get time, che sostanzialmente fa l'operazione inversa rispetto al costruttore, ovvero mi restituisce il tempo universale che è trascorso dal 1 gennaio 1970. E poi c'è un metodo speciale che si chiama date.now, che mi restituisce per l'appunto il numero di millisecondi trascorsi dal 1 gennaio 1970. Come facciamo a fare input-output? Sostanzialmente abbiamo la possibilità di utilizzare diversi meccanismi. All'interno di un browser io posso utilizzare quello che è un oggetto speciale che si chiama window, oppure un altro oggetto che si chiama console. E infine, se sono all'interno di una pagina HTML, posso utilizzare un metodo particolare che si chiama write, l'oggetto document. Vediamo nel dettaglio come funziona. Quando uso l'oggetto window, posso utilizzare diversi metodi. Quelli che ci permettono di fare input-out nel modo più semplice sono quelli che vediamo qua. In particolare, alert, prompt e confirm. Alert permette di andare a mostrare una finestra di avviso, come quella che vediamo qua. Ora, l'aspetto specifico dipende dal browser, dal sistema operativo e da tanti altri aspetti. Prompt invece cosa fa? Mi permette di andare a chiedere un input, quindi mi mostra una finestrella per andare a inserire dell'input. Il primo è la stringa che viene stampata e il secondo è il valore che viene iniziale, che viene messo nella finestrella. Per cui, ad esempio, vedete che qui è enter e number e poi ho già il valore 42 pronto. Confirm, sostanzialmente, è analogo ad alert, solo che invece di avere un unico pulsante di ok, ha due pulsanti che sono annulla e ok. Alert non restituisce nulla, prompt mi restituisce una stringa, che è il valore che vado a scrivere, oppure nulla nel caso in cui non ci sia niente. niente. E confirm mi restituisce un valore booleano. Vero se premo ok, falso se invece premo annulla. Per quanto riguarda l'oggetto console, l'oggetto console è un oggetto che è sempre presente, che mi permette di andare a, praticamente, andare a scrivere delle tracce, spesso in un log, di quello che succede. Quindi, quando voglio andare a fare, ad esempio, delle operazioni debug di un codice JavaScript, quello che posso fare è andare a fare console.log e questo verrà stampato in un certo punto. Ovviamente, il log può essere fatto con diversi livelli di priorità, per cui console ha tre metodi principali, che sono log, warn ed error, che permettono di andare a scrivere dei messaggi di log, che quindi sono l'aggiornamento, warn, dei messaggi di warning, quindi c'è qualcosa che probabilmente non va bene, ed error se il nostro programma ha riscontrato un errore. Quindi, volendo, io posso andare a vedere nella console del mio browser, se ci sono messaggi di errore o di warning, per capire se qualcosa è andato storto all'interno della pagina. Il risultato, andando a mostrare questi dati, a vedere il risultato, è sostanzialmente questo. La stringa che io passo, e poi, all'interno della console, di solito viene mostrato un simbolo particolare, oppure viene mostrato il messaggio con un colore particolare, quindi spesso viene utilizzato il giallo per il warning e il rosso per i messaggi d'errore. Infine, io posso utilizzare DocumentoRite per andare a generare del codice che viene emesso all'interno della pagina HTML. Un esempio è quello che vediamo qua. Vedete che io qui ho sostanzialmente un frammento di codice HTML, dove ho un elemento P di tipo capoverso, e poi ho questo elemento script, che come dicevamo è l'elemento HTML che è deposto a racchiudere il codice JavaScript. Il codice JavaScript che vediamo qua, sostanzialmente, è un ciclo che mi va a stampare tutti i numeri dispari da 1 fino a 30. Quindi parte da 1, i minore di 30 e somma 2 ogni volta. E poi vado a stampare DocumentoRite. Se i è uguale a 1, quindi è il primo elemento, metto una stringa vuota, per gli elementi successivi metto una virgola e poi concateno più i. Ricordatevi che, mettendo una stringa e un numero, il risultato è prendere la stringa e concatenarla con la versione convertita a stringa dell'intero. Cosa succede? Questo DocumentoRite scrive proprio lì, in quella posizione dell'HTML, quei valori. Quindi, sostanzialmente, è come se io gli scrivessi i numeri da 1 fino a 29 separati da virgole. E in effetti, se io vado a vedere cosa mi mostra al browser, ottengo esattamente quello. In quella posizione, esattamente dove trovo il tag di tipo script. Quindi questo è un modo di andare a generare, ad esempio, del contenuto HTML in maniera molto semplice, utilizzando un programma. Immaginate di voler generare, che so, una tabella molto grande, una serie di liste di elementi. Lo posso fare tranquillamente utilizzando uno script in JavaScript che, utilizzando il Documento.Write, va a scrivere proprio in quella posizione del documento HTML un contenuto. Quindi il browser che cosa fa? Quando incontra lo script, esegue il codice contenuto. E, se ci sono i Documento.Write, va a prendere quanto viene scritto e lo posiziona esattamente all'interno del documento HTML in quella posizione. Attenzione che Documento.Write è pensato per essere utilizzato all'interno del documento HTML in certe specifiche posizioni. Se voi utilizzate Documento.Write alla fine, quando il documento HTML è ormai preso e completo, quello che voi ottenete è sostanzialmente di avere una riscrittura del documento. Quindi, attenzione a utilizzare Documento.Write nelle posizioni giuste, quindi all'interno del documento, dove volete che compaia il codice e non alla fine, quando il documento è stato già completamente caricato, perché altrimenti Documento.Write vi cancella tutto il documento e poi scrive quello che voi avete prodotto. Quindi non è il risultato che vi sareste potuti aspettare. Attenzione che poi il Documento.Write non genera del codice nel punto in cui si trova, ma bensì nel punto in cui viene eseguito. Se andiamo a vedere questo esempio di codice che vediamo qua, vedete che c'è un primo blocco script che non fa altro che definire una funzione, che si chiama here, e poi un altro blocco script che chiama la funzione. Ovviamente l'output della funzione non verrà messo dove c'è il primo script, ma verrà messo dove c'è il secondo, ovvero dove è stato invocato il metodo Documento.Write. Quindi attenzione a questi dettagli. E attenzione anche che non basta scrivere Documento.Write dentro una funzione, quella funzione io devo anche chiamarla per poter eseguire quel codice. Questi sono i primi elementi fondamentali di JavaScript. Non ci resta a questo punto che vedere qualche elemento un po' più avanzato. Ad esempio, come posso utilizzare le funzioni per andare a scrivere del codice che può essere riutilizzato più volte e invocato. Ma questo sarà l'argomento che tratteremo nella prossima lezione. Grazie. Grazie.